Oracci, attenzione, perché molti hanno risposto Skullmonkeys, ma in realtà il gioco è The Neverhood. Non mi fate sti scivoloni, eh? Jumpy of Magic si è dimenticato il D iniziale, quindi anche se è stato il più veloce, il vero vincitore è Tizio Bello, mentre la risposta migliore è di Goblin Fist, che scrive Lei è Cameron Diaz senza trucco. Ma secondo voi si riferisce a Clayman o a me dandomi del lei? Vabbè, prossimo round. Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche prima di aprirli. Continua la stagione degli unboxing Poracci e oggi andremo a spacchettare l'unica vera grande novità dedicata all'anniversario della serie di The Legend of Zelda, il Game & Watch a tema. Lo so, non si tratta di un'iniziativa così nuova, visto che lo scorso anno abbiamo ricevuto praticamente lo stesso oggettino però a tema Mario, ma approfitteremo di questa occasione per confrontare tra di loro le due mini console e capire se sono stati fatti dei passi in avanti. Poi so che molti di voi hanno comprato il Game & Watch esclusivamente con fini collezionistici e non è che hanno tutta questa voglia di aprirlo. Quindi tranquilli che anche questa volta mi sacrifico io per voi. Andremo a vedere insieme il contenuto della confezione, le funzioni di questo Game & Watch e se effettivamente vale la pena acquistarlo. Potrebbe diventare raro nel corso degli anni? Ve lo dico alla fine. Prima di iniziare però vi ricordo che sabato e domenica, 13 e 14 novembre, sarò alla Milan Games Week, a girovagare così, senza una meta precisa. Su Instagram vi aggiornerò in tempo reale sui miei spostamenti. Se per caso capitate da quelle parti, passate a fare un saluto, altrimenti non vi parlo più. Bene, ora lasciate un like e iscrivetevi se siete nuovi e in descrizione trovate anche il link al Porion nel caso foste interessati a supportare il canale. Bene, ora ho detto proprio tutto. Iniziamo! È passato un anno, ma la storia è sempre la stessa. L'impostazione della scatola è identica a quella del Game & Watch di Super Mario. Ovviamente ci sono delle differenze per quanto riguarda gli artwork. Il rosso lascia il posto all'iconico verde della serie e questo colore ritorna un po' ovunque, anche sulla scocca del Game & Watch. Osservando la parte superiore delle due scatole messe una a fianco all'altra, mi sono appena reso conto di come Nintendo stia probabilmente pensando di tirare fuori una serie estesa di queste console, che non si limiterà esclusivamente a Mario e Zelda. In effetti quella del Game & Watch potrebbe diventare una sorta di evoluzione della serie delle miniconsole, per ora interrotta allo SNES. Ci vedrà bene un altro modello dedicato a Kirby, Donkey Kong o magari Metroid. C'è un grande potenziale, insomma. Sul retro possiamo osservare l'elenco di tutte le funzioni principali e il nuovo Game & Watch sembra offrire molto di più rispetto a quello di Mario. Abbiamo tre giochi, i primi due della serie e l'originale Link's Awakening per Game Boy, una versione di Vermin reimmaginata con Link come protagonista, affari da Echo a Ball con Mario, la funzione orologio e quella cronometro, che come andremo a vedere sono ricche di modalità e gustosi easter egg. Ma a tempo al tempo. Le scritte sull'estremità destra ci ricordano che anche questa volta non è incluso un caricatore da muro, avvertimento riportato anche sul fronte del box. Un grazie speciale all'impiegato Siae, che ha deciso di appiccicare il discretissimo bollino in bella vista e anche al Corriere, che ha scelto di palleggiare con la mia copia prima di consegnarla. Vabbè, non è il mio periodo fortunato, ma sapete che c'è? Prendiamo il taglierino e andiamo all'unboxing. Ed eccoci finalmente allo spacchettamento, la parte che preferisco. Togliamo la copertura di plastica esterna e proprio come accadeva per il Game & Watch di Mario, succede una cosa molto fica. Ovvero che il packaging si libera di tutte le cose aggiuntive che sono state messe per ricordare il brand di Zelda, le cui grafiche rimangono interamente sulla copertina di plastica e questa diventa sostanzialmente una custodia di un Game & Watch d'epoca. Tranne per alcuni piccoli dettagli, come ad esempio il fatto che questo è il Game & Watch di Vermin, è vero, ma è possibile vedere all'interno dello schermino digitale la figura di Link. Ma procediamo con l'unboxing e anche questa volta mi aspetto esatto un piccolo messaggio di ringraziamento da parte di Nintendo, anche qui a tema Vermin Link, che accoglie il giocatore una volta tolta la prima linguetta e qui dovremmo trovarci di fronte in realtà alle prime differenze. Infatti già noto qualcosa di sostanzialmente diverso, ovvero la custodia interna che come andremo a vedere, questa volta riveste un ruolo fondamentale. Guardate quanto è abbozzato, porca miseria, maledizione. Abbiamo oltre alle istruzioni, eccole qua, al solito il fogliettone tutto spiegazzato, che in questo caso mi dovrò leggere perché il Game & Watch in realtà è ricco di funzioni e tasti segreti, alcuni immagino siano easter egg da scoprire, quindi non riportate nel manualetto, ma questo per ora ve lo risparmio. E poi abbiamo la custodia e il Game & Watch. Ora tolgo un attimo il Game & Watch e vi faccio notare che la custodia ha delle istruzioni relative proprio alla confezione, perché sostanzialmente è fatta di un cartone che si può ripiegare e diventa il kickstand che la console non ha. Uno dei più grandi difetti del Game & Watch di Super Mario era che non si poteva esporre, nonostante fosse un orologio da mensola, e hanno avviato in questo modo. Non hanno messo un piccolo appoggino sulla console, ma piuttosto hanno reso la scatola interna di cartone un trespolino su cui esporre il Game & Watch. Magari grazie alla potenza del montaggio vi farò vedere la console già esposta dentro la sua custodia. In realtà l'ho montata subito e questa è un'aggiunta fatta molto dopo le registrazioni iniziali, perché come un oscillerato mi sono dimenticato di farvi vedere che è presente anche il cavo USB-C. Qui vedete la struttura montata per fare da base su cui appoggiare il Game & Watch. E in più abbiamo anche questo scompartimento segretissimo. Il cavo USB-C che va a fare compagnia a quello del Game & Watch di Super Mario. Torniamo all'unboxing. Ma andiamo a vedere proprio il Game & Watch. Eccolo qua, wow! Verde fichissimo! Molto più luminoso di quello che mi aspettavo. Secondo me molto più brillante del rosso di Super Mario. Devo controllare, scusate. Eh sì, vi confermo che cromaticamente è molto più acceso questo verde di The Legend of Zelda. In fondo per il Game & Watch di Mario hanno scelto questa colorazione per ricordare il Famicom, la versione giapponese del NES, del Nintendo Entertainment System. Mentre per questo di Zelda, secondo me, si sono presi qualche libertà in più. Questo perché comunque, ricordo che queste qua sono consoline, io le chiamo apocrife, perché in realtà sono dei finti Game & Watch, sono dei falsi storici. Non sono riproposizioni di veri modelli appartenenti alla linea originale dei Game & Watch, ma sono delle reinterpretazioni molto più moderne. Non solo per le ovvie porte di connessione, per esempio qui c'è la USB-C per la ricarica, ma anche per il quantitativo di tasti. E c'è da dire però che anche questo secondo Game & Watch in realtà guadagna tantissimo in termini di funzionalità e quindi ha anche qualche tastino in più. Una cosa che non mi era piaciuto il primo e continua a non piacermi anche qua, è che i tasti in realtà sono molto molto vicini alla fine della console, quindi non c'è un'impugnatura ergonomica, soprattutto per chi come me ha le manone e quindi insomma non è proprio il modo più comodo per giocare a queste cose. Accendiamo un attimo il Game & Watch per un primo avvio. Madonna che figata, l'artwork del primo Zelda, press time button. Ed eccoci. Questo qua in realtà è la funzione orologio, che va però settata. Allora, ora vi spiego. Allora, una cosa molto carina della funzione orologio di questo Game & Watch è che sostanzialmente sono 12 schermate in totale, fino a mezzogiorno e mezzanotte, dove Link arriva a sconfiggere. Spoiler! E la storia poi si ripete ogni 12 ore, con le solite 12 schermate che si alternano ciclicamente. La cosa interessante è che ci sono un po' di funzioni, tra cui il fatto che si può prendere il comando della partita e giocare mentre l'orologio scandisce al tempo. Ora vi faccio vedere anche il cambio. Vedete, c'è una nuova schermata, ma in più fra poco ci sarà il cambio d'ora e quindi anche il cambio di schermata. Non sono finite qua poi le... Esatto. Tenendo premuto il tasto A, parte la musica del gioco e non c'è più il ticchettio dell'orologio. Grandissimo tocco di classe. Vediamo ora il cambio dell'ora. Ecco, cambio ora, si cambia anche stanza. Bellissimo, bellissimo. Nuova stanza, nuove sfide. Questa è la schermata di scelta dei vari giochi. Ci sono Zelda, Zelda 2, Link's Awakening, Vermin e poi anche il timer. Partiamo dal timer perché è l'altra funzione interessante. E questa è a tema Adventures of Link, quindi Zelda 2. Si può scegliere un conto alla rovescia fino a 10 minuti. Mettiamolo di un minuto. L'obiettivo è quello di sconfiggere più nemici possibili. E poi verranno conservati i record. Un altro gioco difficilissimo. Probabilmente morirò prima di poter vedere la fine. Camperiamo, camperiamo in The Legend of Zelda. Mi sa che mi sono appena condannato a morte. Uno. Finito. Top. Nuovo record. E i record di cui viene tenuta traccia, ognuno è relativo a quel minutaggio che si ha scelto. Cioè, per esempio, il record di 14. Vedete, qua cambia, non so se si vede. È relativo soltanto al fatto che ho scelto il timer di un minuto. Si può scegliere anche lo stage su cui giocare. C'è però un'altra funzione del timer molto interessante che non è un conto alla rovescia, ma è l'esatto opposto. Ovvero, sostanzialmente, tenendo premuto il tasto A, si avvierà una modalità alternativa dove bisognerà sconfiggere un 21 nemici nel tempo più veloce possibile. Una sorta di modalità orda, diciamo. E anche qua poi i progressi vengono registrati e se ne tiene traccia per combattere contro se stessi. E queste, diciamo, sono le modalità più particolari e anche nascoste di questo Game & Watch. Poi abbiamo i tre giochi. Vi faccio vedere una cosa. Allora, prima vi faccio vedere Vermin, che tanto è un classicone proprio, del divertimento digitale. Molto basic, vabbè, come erano basic tutti i Game & Watch. O i Jig Tiger, conosciuti come Game & Watch dei Poracci. E questo non ci perderei troppo tempo. È il classico Vermin, di sicuro l'avete visto. Ma abbiamo poi i tre giochi, Zelda 1, Zelda 2 e Link's Awakening, che però sono disponibili sia nella versione occidentale che giapponese per Famicom Disk System. E queste versioni sono molto interessanti perché in realtà differiscono in più di un modo dalle versioni che siamo abituati a giocare. Poi magari farò uno short su questo, ma ci sono tantissime differenze, sia a livello di sonoro che di grafica, rispetto alle edizioni che abbiamo giocato su Nintendo o sulle console su cui sono stati riproposti questi giochi. Quindi, in realtà, i giochi sono tre, ma di ognuno c'è una versione alternativa e tra l'altro ci sono tutte le lingue occidentali in cui è uscito il primo Link's Awakening, che comprendono anche il tedesco e il francese e lo spagnolo, mi sembra? No, soltanto il francese e il tedesco, oltre che l'inglese e il giapponese. E queste più o meno sono tutte quante le funzioni offerte da questo Game & Watch, che sono decisamente di più rispetto a quello di Super Mario, ma oltre a questo ci sono tantissimi segreti che, come dicevo, probabilmente vi racconterò in degli shorts dedicati, se riesco a trovare il tempo. Però a livello contenutistico lo promuovo, mi piace tantissimo l'idea di avere più versioni degli stessi giochi e mi piace soprattutto l'idea di aver reso interattivi i timer. Azzeccatissimo. Quindi, cosa ne penso di questo Game & Watch a tema The Legend of Zelda? Di sicuro è un bello oggetto e sono stati fatti dei passi in avanti rispetto a quello di Mario, però ci sono ancora delle cose che proprio non mi vanno giù. Innanzitutto, a livello di contenuti c'è sempre la sensazione che si potrebbe fare molto di più con i giochi proposti. Ormai ho perso il conto degli hardware su cui sono riusciti a infilare Zelda 1 e 2 e per quanto io ami questi giochi, sì, anche Adventure of Link, mi piace, va bene, giocatelo. Credo sia arrivato il momento di passare oltre. Ottimo che sia stato inserito Link's Awakening nella sua versione originale, edizione che molto spesso viene trascurata in favore della deluxe per Game Boy Color. Ma anche qui, perché non usare qualcosina in più e mettere anche a Link to the Past se si vuole seguire il corretto ordine cronologico di pubblicazione della serie? O magari, se il problema a livello hardware è di mancanza di tasti, ripescare i due oracles, quelli sì che meriterebbero di essere riscoperti. E poi, non ci credo. Dopo l'anima game, anche quella watch ha ricevuto la sua buona parte di upgrade, tutte aggiunte graditissime rispetto all'impara a contare mentre disegni Mario nella lingua sbagliata. Ma che razza di occasione d'oro si sono fatti sfuggire? Ancora non c'è una funzione sveglia che sarebbe stata perfetta da associare a Link's Awakening, l'orologio per Zelda 1, il timer per Adventure of Link e niente per Awakening. A livello tematico sarebbe stato perfetto, visto che è un gioco incentrato sul sogno e sul risveglio. Mettici una sveglia. Quindi, ne consiglio l'acquisto? Sì, dai, sì. Se vi siete divertiti con il primo Game & Watch, questo è superiore in tutto e per tutto. Ci sono più giochi, più funzioni e in generale il sistema operativo è molto più curato. Poi ok che ancora non è un kickstand, ma la trovata di riutilizzare la confezione interna come piedistallo dà finalmente un senso a questo orologio digitale. Però ecco, siate consapevoli di questa cosa. Un oggetto del genere è puramente da esposizione e il suo destino è quello di abbellire una mensola o riempire una vetrinetta. Passato l'entusiasmo iniziale e scoperti tutti gli easter egg, l'attrattiva ludica di questo oggetto si esaurisce in poco tempo. Se lo avete comprato pensando di fare un investimento sul futuro, secondo me è stata azzardata come mossa. Avete visto che fin'anno fatto Game & Watch di Mario? Ve li tirano dietro. Però è difficile prevedere quello che succederà da qui a dieci anni e il mercato riserva sempre tante sorprese. Quindi magari vi dice bene. E questo paraccio era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per sapere cosa ne pensate di questo Game & Watch. Noi ci vediamo domani o dopodomani se passate alla Milan Games Week. Quindi mi raccomando non riposatevi ma venite a Milano che si nerda duro insieme. Vi aspetto. Io sono il Poro Diaz, Michele Watch, ciao. Ehi ehi ehi, fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale. E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Spoiler!